Bravo cucciolone, io lo adoro il mio salame, si è troppo carino ed è anche bravo. Oh, quanto mi dispiace, gliel'abbiamo sciottato. No, me l'ho sciotta! Mi sa che questa lotta è persa, ragazzi. Ragazzi, volevo ringraziarvi dei 150 iscritti e oltre. La parodia arriverà presto, ma se volete maggiore informazione andate a fine video. Ciao! Ciao, ragazzi, come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi io non farò gli scambi prodigiosi. Ma oggi andremo a fare una lotta Pokémon contro una ragazza che molti di voi conosceranno, ovvero sto andando a fare una lotta Pokémon contro Music Wolf. Chi la conosce, alzi la mano, anche se non vi vedo, fa niente. Ecco qui, allora, la tua amica Music Wolf ti ha lanciato una sfida. Comincia la lotta, sono davvero molto emozionata. Vai, Libegon! Chi è Naktara? Ah, è Umbreon, ok, d'accordo. Siamo pronti per lottare, sono davvero emozionata. Allora, sapendo che lui è tipo buio, io non è che ho delle mosse fantastiche, eh. Però, vabbè, frana, vai con frana. No! Maledizione ha evitato l'attacco! Cacchiarola, che brutta cosa! Ah, mi dispiace, cara Music, ma mi dispiace davvero tanto, ma muori. Perché? Lucario è tipo acciaio, se me lo vuole avvelenare, non riesce. Poi, Lucario è tipo lotta. Basta che non mi fa lo scherzo, eccala. Ok, il mio Lucario recupera i PS con gli avanzi. Adesso io, per prima cosa, per magari non far brutta figura, uso Drago Pulsar. Perché magari me lo cambia anche lei, capito? Perché non si sa mai, eh. Avete visto? Avevo ragione, sapevo che lo tirava via. Chi è che mette giù? Kanga Scan, cacchio, è tipo normale, potevo usarla, la mossa è tipo lotta, vabbè. Io uso Drago Pulsar, bam. Vediamo cosa gli facciamo, poco o niente. Davvero poco o niente gli facciamo. D'accordo. Ah, non attacca? Come mai no? Vabbè, zuffa. Voglio proprio andare giù pesante, a meno che non mi ammazza lei poi. Ai ai ai, la Kanga Scanite, non va mica bene. Perché io, per colpa delle regole di Kalos, ho dovuto togliere le mie megapietre dai miei Pokémon. Ma adesso le uso. Zuffa, bam. Muori male Kanga Scan. Bene, fuori uno, dai. Cacchio, però mi riesce nella difesa di Lucario. Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Fuori uno. Ok, per usargli Drago Pulsar, perché, vabbè, non si sa mai, eh. Visto? Ha usato Crescipugno, avete visto? Che fa molto male al mio Lucario, che però dai resiste. Ottimo, bravo Lucky, bravo. Drago Pulsar, gli facciamo due dannetti in croce. Ok, qualcosa li abbiamo fatto. Lui con gli avanzi, vabbè, fa poco o niente. Ok, ed è morto pure il mio Lucario. Poverino, mi dispiace Lucky, davvero. Ok. Adesso l'abilità che ha lui è muta tipo, quindi ha, è tipo lotta, quindi io metterò giù il mio Salamence. Vai, Salamence. Bravo, cucciolone, io lo adoro il mio Salamence, è troppo carino ed è anche bravo. Perché il mio Salamence conosce una mossa tipo Psico che ha cozzato a Zen. Lui adesso, avendo usato il muta tipo, ah, vedo, ah, ho avuto paura, lo ritiri, eh. Glass, ai, 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 quel Glaceon, quel Glaceon lì non mi piace per niente. Cacchio, se non mi piace quel Glaceon. Non mi piace, però il mio Salamence è bello veloce, eh. Quindi dovrei riuscire, sì, sì, grandioso. Grandioso il mio Salamence, bravo, gli hai fatto un bel po' di danno, bravo. Ecco, lo sapevo, un bel geloraggio, me lo merito. Me lo shotterà, sì, infatti me l'ha shottato. Quindi, vuol dire che è morto il mio Salamence, come vedete, poverino. Mudkip, vai! Bravo, bene. Adesso gliela facciamo con Martel Pugno, che è ancora una vostra tipolotta. Sì, ma se riusciamo a essere più veloci. Ah, ecco, lo ritira. E ho paura della scelta. Green Ninja, ok, Green Ninja, va bene, va bene, va bene. Butta giù quel Martel Pugno. Shbam! Oh, quanto mi dispiace, gliel'abbiamo shottato. Ai, 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 ai. Quello Xerneas lì non mi piace, porca miseria. Allora, vediamo, rocciotomba. Dobbiamo diminuirmi un po' la velocità perché sono veloci, cacchio. Visto? Ha attaccato prima del mio. È velocissimo ed è anche fortissimo. Mi stava per ammazzare gli gematichi. Dai, dai, rocciotomba. Oh, sì. Fa niente se non fa niente. Sì. Fa niente se non fa niente. Fa niente se non fa niente. Adesso devo pensare un attimino. Perché se io butto giù Iveltal, che è il suo nemico... Un po' un problema. Adesso c'ho due tipi drago. Non va bene. E vabbè, no, Iveltal meglio di no perché non è molto veloce. Proviamo con l'altra Flygon, la mia, la mia Flygon, la mia preferita. Vai. Forza che ce la fai, dai, Flygon. Dobbiamo provare con terremoto. Per forza. Non so che cos'altro usare. Vedi, è più veloce di lei. È più veloce di Xerneas. Ah, non gli ho fatto un cavolo, non gli ho fatto. Me l'ho sciotta. No, me l'ho sciotta. Il mio Flygon me l'ho sciotta. No. Mi sa che questa lotta è persa, ragazzi. Mi sa che è persa. Vabbè, tentiamo con Iveltal, però non... Non so. Non so davvero cosa fare, ragazzi, perché... Maledizione. Vabbè, allora, proviamo con Ali del Fatto, che è la sua mossa principale. Vai, vai con Ali del Fatto. Bam. Ah, dai, qualcosa gli abbiamo fatto. Cos'è? Forza Luna O. No, 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 no. No, il mio Ibi. Cacchio, come me l'ha sciottato. Ragazzi, questa lotta è persa. Perché il mio Libegon è avvelenato, porca miseria. Vabbè. E ancora un piccolo sforzo. Un piccolo sforzo dubbido corno. Dai, vabbè. È che lui non è veloce, capì? Quindi, vabbè, frana, dai. Tanto ce l'ammazza. Vabbè, ragazzi, è stata una lotta molto bella contro Music Wolf. E in più ho fatto una figura del cavolo della voi. Vabbè. Vediamo frana cosa fa. Ecco, non gli ho fatto niente. Ah, no. Tentenna. Non può agire. Vabbè. Magari riusciamo a sciottarli almeno lui. Però, vabbè. Il resto è perso, ragazzi. Non posso dirvi nient'altro. Bene. Ecco. Xerneas è sciottato. Però, vabbè, ormai la lotta è persa. Perché il mio ha avvelenato. Cacchio, povero, quanto soffre. C'è io che lotto con i miei Pokémon preferiti. Non ci posso fare niente più forte di me. Adesso me lo sciotterà sicuramente con l'altro Pokémon tipo... Ecco. Lasso. Listo. Devo usare Fuocobomba immediatamente. Immediatamente, Libby. Bravo! Sei grandioso, Libby. Anche da avvelenato sei troppo grande. Però, non dobbiamo dimenticarci che lei c'ha ancora un Pokémon sano. Completamente in squadra. Il mio, poverino avvelenato. Guardate come mi perde, PS. Ancora Umbreon, mi sembra. Sì, Umbreon. Sì. Naktara, Umbreon. Cacchio, ancora completamente sano lui. Vabbè. Drago Furia, dai, che è una mossa abbastanza... Adesso mi muore... Mi muore... Sto chiamando Flygon. Mi muore Lidegon. Questa qua continua ad usare protezione. Ah no, 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 Fuocobomba. Dai, dai, dai. Buono, buono. Non gli ho fatto niente. Ecco. Abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso contro MusicWolf. È stata davvero brava, tavolo. Eh, ha delle tattiche... Delle buone tattiche. Vabbè, poi si sa. Come in tutti i giochi, in questo si vince e si... Ok, con questo abbiamo terminato. Io vi lascio e... Ah, vi avviso che la parodia, quella di Durante Inglese, arriverà presto. Dovete lasciarmi un attimino registrare perché non tutto si può fare in un battito di mani. Va bene, allora ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao! Ciao! Due piccoli elettriche. Un'alfesa, un treale, iena, schitto ed un cincino. Non manca più nessuno, solo che non si vede più al prodigioso.